Siamo in realtà lontano, io ci ho guardato che è stato un segno, quindi ancora doltremente al nostro reparto, il nostro paroletto, il nostro Storio, il nostro Presidente d'Evoca e come non ha ricaduto anche un po' carichoso delle vocali, rispetto a un tanto che volete che le ha chiusi, però insomma in massima il regnato di oggi ci sia arrivato molto 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 più vicino, secondo me, che sta in modo di fare. Grazie a tutti. 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Grazie. 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 Grazie.